Ma lei è ancora una diva o è una dimensione che appartiene al suo passato? Io sono ancora una diva perché sono una diva bionda ultimamente, inside. E lei sì, l'ha detto anche a Paolo Sorrentino, premio Oscar, lei faceva parte del cast della grande bellezza in una festa diciamo decadente, lei usciva da questa torta opulenta, no? Secondo lei perché l'ha scelta? In qualche modo esprimeva un po' un degrado della società. Secondo lei perché ha scelto lei per quella scena? Io sapevo che poi rivedendomi sarebbe stato un inferno, poi avevo un busto per essere così iconica e tanta. E io credo che... forse mi pensava che io fossi arrivata come attrice. Cioè una diva al tramonto vuole dire? Sì. Era il simbolo di quello secondo lei in quel film? Sì, è stato faticoso però è stato molto forte come emozione e poi... Cioè nel trailer a Los Angeles c'ero io, non è che c'erano altre. Infatti diciamo alla faccia di tutti nel trailer presentato agli Oscar c'era lei. C'ero io. Tanto che lei sarebbe pure tatuato come se avesse vinto lei, vede? Sono stata sulle scatole a chiunque, però la storia è quella. Cioè che questo Oscar è un po' è suo, questo dice? Un po' è mio, un po' dell'equip, un po' è anche mio, perché no? Un percentuale, che percentuale si dà? Nel mio intimo io penso il 70%, però dai, in fondo è stato un personaggio molto duro per me. Voglio dire, poteva essere anche depressivo. Io sapevo di non essere quel simbolo lì ormai andato. Lei appunto si è dispiaciuta per alcune scene tagliate, tante dice lei. Sorrentino l'ha più chiamata dopo che lei ha espresso questo dispiacere? Si è mai fatto sentire con lei? No, io credo che lui abbia così, ci sia rimasto un po' male. Non mi chiamerà mai più, lo so benissimo. Ma almeno vorrei che dicesse ciao Serena.